Con una operazione da manuale, gli investigatori anti-Covid dell'USL di Piacenza sono riusciti in sei giorni a sequenziare, rintracciare e isolare 24 casi di variante Delta, la mutazione del virus scoperta in India. Provengono tutti dal pollo logistico piacentino, anche se non tutti sono lavoratori. Due le aziende coinvolte con 10 dipendenti contagiati, gli altri 14 sono amici, conoscenti o parenti stretti. Diversi abitano nel Cremonese e si spostano verso Piacenza utilizzando anche mezzi pubblici. Abbiamo allargato il più possibile il cerchio tentando di individuare i possibili contatti dei contagiati, spiega Marco Delle Donne, che dirige il Dipartimento di Sanità Pubblica. In questi ultimi giorni i tamponi non evidenziano più nuovi positivi e dunque siamo abbastanza fiduciosi di essere riusciti a contenere il virus grazie a un'azione tempestiva. Tutto è partito dal laboratorio di biologia molecolare dell'ospedale di Piacenza, che ha segnalato contagi da sospetta variante Delta lo scorso 15 giugno. L'attività di contact tracing, immediatamente iniziata, ha permesso di individuare in due ditte diverse, entrambe nel pollo logistico, una serie di lavoratori assieme ai loro contatti professionali ed extraprofessionali. Su 24 persone, solo una ha avuto problemi respiratori abbastanza seri, tanto da dover ricorrere a ricoveri in ospedale, ma non in terapia intensiva. Gli altri sono in cura al proprio domicilio, con la sintomatologia caratteristica del virus, febbre, mal di ossa, perdita del gusto e qualcuno con lievi difficoltà respiratorie. L'età media è piuttosto bassa, intorno ai 40 anni. Nessuno di loro è mai stato vaccinato contro il Covid, nemmeno con la prima dose.